Ecco la sala cremita per questa festa sociale a chiusura dell'annata calcistica della società Discus Castelfrentano. Oggi è la festa dei ragazzi, ma ci sono anche una rappresentanza della prima squadra. Ecco il nostro Nico Cheroli, tutto al posto. Ecco, qua ci sono i covanissimi che hanno disfrutato un'annata alla grande. Qua ci sono dei piccoli esordienti, fulcini, piccoli amici, dimicalpi, tutti qua. Abbiamo un pienone quest'anno, così molta che abbiamo lavorato bene. La sala è cremita. Qua il tavolo dei mister. C'è la torta questa sera? 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 C'è la torta questa sera. La torta questa sera? I soldi di Nicolò Fermano, aspetta un momento. Come finirà a fare? Ma non ce l'ho dato a fare. A posto, sono i chieditori dei nostri atleti, la base di Guido Berluschi, di Guido Berluschi, tutti presenti. Qua abbiamo il nostro Gianni, ma che vuoi fare? Grazie, grazie, grazie. E' fortunato, benissimo, benissimo.